Temo che la gita a Roma non è che possa sortire molto e il ministro potrebbe tranquillamente dire rivolgetevi al commissario per la sanità che c'è in Abruzzo. Tempo sprecato, il viaggio della speranza del sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, del sindaco di Teramo Maurizio Brucchi a Roma per convincere il ministro della salute Beatrice Lorenzin a rivedere il piano regionale sanitario. Parlo del consigliere regionale di Forza Italia, Terramano Doc Paolo Gatti. Motivo? Il piano che penalizza fortemente i nosocomi di Teramo e l'Aquila che non potranno fondersi per diventare ospedale di secondo livello, ovvero al top al pari di quelli di Pescara e Chieti, è responsabilità unica ed esclusiva del commissario straordinario della sanità, ovvero il presidente della regione Luciano D'Alfonso e della sua maggioranza evidenzia Gatti, sottomessa ai suoi voleri, compresi consiglieri aquilani come Pierpaolo Pietrucci che pure dovrebbero, attacca Gatti, difendere le prerogative del loro territorio. È un tema centrale per gli abruzzesi, c'è questo riordino, chiamiamolo così, della sanità che penalizza drammaticamente la provincia dell'Aquila e la provincia di Teramo che saranno sprovviste di un ospedale di secondo livello, c'è un ospedale di eccellenza dove ci sono tutte le specialità più importanti. È una scelta che nel merito non si può condividere, va contrastata in tutti i modi possibili e immaginabili ma anche nel metodo, perché questo piano esce fuori da un non-confronto, esce fuori in beata solitudine senza aver condiviso nulla con le popolazioni, con gli operatori, con gli amministratori, con i rappresentanti del territorio, insomma è una cosa che ci riporta indietro di qualche decennio. E l'atteggiamento di Pietrucci o non lo giudico? Lo giudico è l'atteggiamento di chi forse non ha letto, non ha capito quello che sta succedendo perché la comunità aquilana che lui dovrebbe rappresentare al pari di quella teramana vengono punite inspiegabilmente in maniera molto grave.